buonasera amici e amiche di nova news 24 una nuova stagione di uomini e donne al preso il via oggi giovedì 24 agosto si perché è iniziata la prima registrazione due nuovi tronisti brando e christian scopriamo insieme non solo christian quindi durante la registrazione della nuova puntata come si era detto ma anche brando 22 anni di treviso come christian anche il veneto è cresciuto in una famiglia separata e ha sofferto per l'assenza del padre proprio come il suo collega ha fatto mille lavoretti per mantenersi brando e christian saranno quindi due nuovi tronisti mi chiamo brando ho 22 anni e vivo a treviso nella vita ho fatto di tutto dal cameriere all'aiuto cuoco al maestro di sci al calciatore amo la vita dinamica e adrenalinica e non so vivere senza sporto vivo in una famiglia di artisti mia zia è stata un'attrice i miei nonni sono due direttori d'orchestra sono un ragazzo normale come tanti ragazzi della mia età il passato ha condizionato le mie scelte e il modo di vivere proprio le esperienze mi sono chiuso nei silenzi anziché esternare i miei sentimenti questa volta però ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita brando i miei si sono separati ho sofferto per questo i miei si sono separati quando avevo dieci anni l'assenza totale di un padre mi ha reso più duro e disilluso nei confronti delle persone mio padre si è dimenticato di me e con lui ho scoperto cos'è il senso dell'abbandono queste le parole di brando quindi il nuovo tronista di uomini e donne ricordiamo quindi che ovviamente uomini e donne partirà fra qualche giorno su canale 5 le registrazioni ovviamente sono partite perché ovviamente maria di filippi cerca di anticiparsi il lavoro lavoro che ovviamente poi si fa duro quando iniziano tutti gli impegni della stessa maria e non riesce ovviamente a registrare tutto insieme quindi cerca di portarsi avanti uomini e donne solitamente a un mesetto di anticipo sulla vera data di messa in onda intanto insieme a brando c'è anche cristiano ho 22 anni vengo da roma studio fisioterapia al terzo anno e nel tempo libero consegno pizze per mantenermi e togliermi qualche sfizio perché a 22 anni chiedere 20 euro a mamma non mi sempre il caso non si può più sentire si è presentato così cristiano il nuovo tronista di uomini e donne il ragazzo è stato presentato ovviamente da maria dei filippi studio sempre tina e gianni nuove sorprese però quest'anno intanto vi chiediamo cosa ne pensate di questi nuovi due tronisti e della nuova edizione di uomini e donne diteci cosa ne pensate se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nuova News 24 grazie a tutti Grazie a tutti.